I 1975, lo dico in italiano così non sbaglio sicuramente, sono un gruppo musicale pop britannico formatosi nel 2002 a Manchester, composto come, insomma, il cantante principale era Matthew, detto Matty Healy. Quindi praticamente in questa canzone che è stata conosciuta per le versioni acustiche trapelate online parla di una ragazza amica, dice il cantante stesso, che aveva, che era bellissima, proprio assolutamente bellissima, ci tiene a sottolineare la bellezza. Lui l'amava, ma non si sentiva amato a suo modo, anzi lei probabilmente non sapeva neanche che lui l'amasse e questa canzone parla appunto del tempo che lui ha passato con lei. Quando poi sono diventati amici intimi, avevano delle loro tradizioni, dei riti, era un po' una cosa strana in qualche modo, casualmente uscivano sempre all'1.02 di notte, quindi quello era il loro obiettivo, il loro rito e quindi ogni volta che lui si sveglia all'1.02 di notte pensa a lei. Ecco, la canzone è stata caricata nel 2013 e comunque è conosciuta per questa appunto esibizione acustica di questo artista e mi piace molto come si chiude, ovvero ma su questa maglietta ho trovato il tuo odore, sono rimasto seduto lì per anni a contemplare cosa fare di me stesso. Ti ho chiamato al 102, siamo rimasti seduti lì per anni a parlare di quel ragazzo, di cosa ti stava regalando, tu 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 e finisce lì, quindi c'è questa fine non fine. No, è una canzone che mi fa sorridere e mi piace perché tocca un argomento con semplicità, ma è un argomento complesso, quello dell'amicizia tra uomo e donna, che ci si innamora sempre un po', qualcuno finisce sempre per rimanerci male. E questi sono, diciamo, quei rapporti, quelli che poi non si concludono, che rimangono un po' in sospeso, che lasciano un po' un'amarezza, un po' un ricordo, un po' un senso di nostalgia anche amplificato più che da quello che c'è stato, da quello che non c'è stato e che ci poteva essere.